Se Roma snobba e forse anche maltratta Gela, non arrivano di certo segnali positivi da Palermo, dove il governo regionale, retto dal presidente Rosario Crocetta, gelese, che anche per motivi affettivi dovrebbe quindi guardare con benevolenza la sua città, continua invece a nicchiare sulle tematiche che riguardano questo territorio ed in particolare sull'avvertenza Gela. Ma non è solo di questa vitale questione che dal capoluogo siciliano non arrivano segnali positivi su Gela. L'ultimo caso, quello che riguarda cioè il delicato settore della sanità, conferma come da Palermo ci si dimentichi con troppa facilità delle esigenze che arrivano da questo lembo di Sicilia. Con quale occhio allora la politica regionale guarda a Gela? Lo abbiamo chiesto a quattro deputati dell'Ars ed in verità a tre e mezzo, che ieri sera sono stati ospiti dell'ennesima interessante puntata di Agora, con il conduttore infatti, a dibattere di Gela e dei suoi tanti gridi d'allarme spesso lanciati nel buio, sono stati i deputati regionali gelesi Giuseppe Arancio del PD e Giuseppe Federico di Forza Italia e quindi il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Cappello, oltre all'eventiniano Fabrizio Ferrandelli, eletto all'Assemblea regionale siciliana nelle file del PD, ma che si è dimesso per il forte dissenso manifestato verso il governo Crocetta e che nel frattempo ha creato il movimento politico chiamato i Coraggiosi. A completare il ricco parterre di ospiti di Agora, i vertici dell'amministrazione comunale gelese, ossia il sindaco Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano, assessore tra le altre deleghe all'industria. Nel corso del rotocalco settimanale di Canale 10 non si è persa l'occasione per parlare anche di politica in senso stretto, con ad esempio un approfondimento sull'espulsione del sindaco Messinese e dal Movimento 5 Stelle e di veri motivi che l'hanno determinata. O con le ragioni che hanno indotto Fabrizio Ferrandelli a lasciare la sua poltrona a Lars, fino ad arrivare alla conclusione, condivisa da chiunque, che quella che andrà a concludersi l'anno prossimo sarà ricordata come una delle legislature più sterili della storia moderna del Parlamento siciliano. Al centro però, come sempre accade ad Agora, c'è stata Gela e le sue tematiche più pressanti sul tappeto. E tutti gli ospiti di Agora, a prescindere dall'idea personale o di partito, sono stati concordi con l'affermare che questa città, dilaniata da mille problemi, si salva solo se si rema tutti dalla stessa parte, ossia dalla parte di Gela e dei Gelesi. Chi volesse rivedere questa importante puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera su Canale 10 a partire dalle ore 21, oppure attraverso i nostri indirizzi social, e cioè il sito internet www.tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, sempre in prima serata, con nuovi ospiti ed argomenti che interessano la nostra città.